E' un sogno che diventa realtà, ma questo è soltanto il primo sogno, è soltanto il primo sogno. Il secondo sogno sarà quello di dover restituire fra cinque anni a chi verrà dopo di me, perché fra cinque anni io lascerò la guida della regione siciliana e quello di restituire a chi verrà dopo di me una terra normale, una terra libera da ogni zavorra, una terra lontana da ogni condizionamento esterno, una terra riappacificatasi con se stessa, una terra nella quale ognuno di noi deve trovare l'orgoglio di esserne figlio.